benvenuti in questa guida top 7 matite sopracciglia di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo revolution beauty progettato per la precisione questo strumento a doppia punta dotato di una matita ultrafine su un extremit per creare peli definiti e un vediamo la nostra valutazione una qualità generale eccezionale favorevole l'offerta per le funzionalità raggiunge 4 stelle complessivamente un ottimo rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 76 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo chico milano matita automatica per sopracciglia scolpite con tre tipologie di tratto a seconda dell'inclinazione della mina di punta per una linea fine ecco cosa pensiamo 5 stelle nella qualità generale imbattibile l'offerta a prezzo scontato 4 stelle per le caratteristiche eccezionale il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 79 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo rim e london bro this way matita professionale definisce ed intensifica le sopracciglia applicazione facile e veloce per un effetto modulabile e vediamo la nostra valutazione 4 stelle nella qualità generale offerta imperdibile grazie allo sconto con ottime caratteristiche risulta tra i top nel rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 86 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare chico milano matita per sopracciglia con formula rigida di micro precisione e pettine separatore la formula contiene cere alto fondenti che assicurano vediamo il nostro parere qualità generale davvero eccezionale nell'offerta assegniamo 4 stelle nelle caratteristiche raggiunge 5 stelle nel rapporto qualità prezzo raggiunge 3 stelle il nostro punteggio generale è di 84 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo rim e london professional eyebrow pencil matita professionale per modellare e scolpire le sopracciglia con pettinino incorporato applicazione con la vediamo la nostra opinione un eccezionale qualità generale nell'offerta assegniamo 5 stelle una funzionalità straordinaria con un rapporto qualità prezzo adeguato il nostro punteggio generale è di 84 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo max factor bro shaper una matita per sopracciglia con punta estraibile automatica e pettinino per contornare riempire e definire applicazione con ecco la nostra valutazione nella qualità generale assegniamo 5 stelle interessante l'offerta con ottime caratteristiche assegniamo 5 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 95 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica nix professional matita sopracciglia a due lati per definire e scolpire le sopracciglia ideale per sopracciglia rade matita con punta ultra sottile per un ecco il nostro parere una qualità generale eccezionale valutiamo l'offerta 3 stelle 5 stelle per le caratteristiche ampiamente sopra la media il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 91 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale